buongiorno da btv news oggi 26 novembre la solennità di cristo re oggi ricorre la giornata mondiale dell'olivo che è stata proclamata in occasione della quarantesima conferenza generale dell'unesco nel 2019 e si svolge il 26 novembre di ogni anno l'olivo nello specifico ramo stesso occupa un posto importante nella vita di uomini e donne fin dall'antichità simboleggia la pace la saggezza e l'armonia e come tale importante non solo per i paesi in cui questi nobili alberi crescono ma per le persone le comunità di tutto il mondo l'obiettivo della giornata mondiale dell'olivo è quello di incoraggiare la protezione di questo albero e dei valori che incarna al fine di apprezzarne l'importante significato sociale culturale economico ambientale per l'umanità conservare e coltivare l'olivo è un obbligo crescente dato che il mondo combatte se date cambiamenti climatici la protezione del patrimonio culturale naturale compresi i paesaggi e al centro della missione dell'unesco e la celebrazione della giornata mondiale dell'olivo rafforza agli sforzi di sostenibilità ambientale